Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una puntata di Demanding of Isaac Afterbirth Plus Io sono Ser e benvenuti nel mio canale Daily con... Con Lazzaro Giusto? Si Pubertà E ci abbiamo i capelli a cazzo non decane Perfetto Allora vediamo subito Se ci danno HP in più Perché se ci danno HP in più moriremo Punto Ci interessa niente prendere danno Ehm... No Vediamo se riusciamo A non prendere danno Sembra di sì Ok rilogliamo quell'oggetto che fa schifo a cazzo Per averne un altro Che fa abbastanza schifo Possiamo rirolarlo ancora Ok Vediamo se potremo poi rirolarlo nuovamente Sì non mi interessa prendere danno Intanto devo morire Sì c'è un sacco di piacere eh quanto ne sparate se poi mia figlia evita di morire per esempio sarebbe matti ok qui abbiamo già un HP app quindi chiaramente voglio morire perché mi aumenta il danno speravo ci uscisse anche un cuoricino in più qui monete no monete chiaro c'è monete il drop rare è il cuore blu ma è veramente raro niente bombe niente consumabili ah potevo prendere set bombe effettivamente questa è un po' una bastardata ve lo dico con il cuore in mano potevo suicidarmi su temperance effettivamente ora che ci penso un colpo di questi moriamo non più quanti mezzi fuori che cosa stai cercando di dirmi gioco e allora perdiamo tutti i patti che ti devo dire già che sono lazzaro in teoria dovrei avere i patti gratis diventeremo padri probabilmente in questa roba ooooh questa stanza dammi un altro mezzo cuore tanto ormai no un cuore intero scusa non intendevo veramente potevo andare giù direttamente quando sono entrata no no ma prendiamo pure danno in tutte le stanze no perché fa bene al rank questa roba ah serpent keys non è male non mi dispiace affotto bombe le abbiamo per la mia del cazzo perché non ci facciamo niente vediamo se riusciamo almeno dal boss a ottenere dei cuori blu che vero è quando spavano la serpent keys mai l'ho chiamato quanto io non ho il creep mi fa bene al cuore cerchiamo di non perdere sto cuore blu e ottenere un patto col diavolo possibilmente ecco però serve a kiss il favore che ti chiede ecco esatto quello di che e anche qui la stanza la vediamo mamma mia il fastidio che mi dai quanti hp esplosivo va bene non so che fa qualcuno poi me lo ricorderà perché io proprio l'esplosivo è la cosa più brutta che possa accadere in una delle in generale no ring up non è male metto qua perché dico questo perché rallenta tantissimo la possibilità di fare danno che quando si attaccano quelle cose non fanno danno finché non esplodono chiaramente poi ne fanno un botto di danno però il concetto è che marca droia che finché non esplodono se ne ha la merda praticamente anche abbastanza sciacquerella ok abbastanza gli oggetti abbiamo visto sì l'esplosivo giusto di cui abbiamo discusso poc'anzi bello è emperor mi piace ma tu se facessi il tuo attacco quello fantastico esatto se riesco ad attaccarti un po' di sti pallini un po' di danno ti si fa e altro non ospita beh io direi prenderlo entrambi il danno non è incredibile ma questo ci dà un po' di cuori blu ok non abbiamo più cuori rossi quindi occhio però abbiamo aggiunto un po' di danno in teoria cuori neri con serpent kiss e un po' di fortuna potremmo riuscirci ok non la prenderò credo oh grazie io vorrei ecco qui qui almeno un cuore nero me ne aspetto però uno deve capitare è per la legge dei grandi numeri no no proprio no ha detto niente hai chiamato il cuore non te lo do non è una bella non è una bella situazione lo dico beh un cuore blu meglio che niente un cuore nero meglio che niente scusate scusate ma come avrete sentito il bambino si è svegliato allora che stavamo facendo ok si ho più o meno presente quanti cuori ne è è successo abbiamo visto la stanza degli oggetti ah peccato mi aspettavo devo dire verità il il patto ma vabbè no è inutile perdiamo tempo cuori neri se immaginate allora aspetta quello non lo posso prendere small rock magari no però c'è ridata la bomba che dopo prenderemo spider bite slow effect bomba ok abbiamo cuori neri ovunque già giusto e si scende se ci dà i cuori neri no se ci dava cuori neri ci avrei pensato però no 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 E vabbè Che era? Le spine Non ti ho visto spina Non mi interessi Tu si però Ah peccato Avvelenarlo no eh Non mi è piaciuto No? Scendi 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 No. Tu c'è un sacco d'HP, eh? Si è servizio. Salve. Merda. Si, intanto possiamo farlo. Così un patto ci costerebbe un solo cuore, qualsiasi tipo di patto. Mi sto bene. Ce n'è altri. Sì. 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 Mettete quello che volevo. Eh, ti sei messo in un po' sto stronzo però. Manca è finito. Morda. Si incrocia le braccia in diagonale Se sono a vista I punti cardinali Ricordiamocelo Ok Tu dovresti tenerle adesso Oh, patch Ok, dai, anche tu sei andato Chi è? Oh, top Ok Allora, tu sei stabile E quindi Non sei difficilissimo a battere Un esplosivo Esatto Ecco, that è un problema Non sta bene Da fine Ok Adesso pensiamo a te Tu potresti regalarci un sacco di cuori In teoria Ma lui basta stargli di lato Se no ricordo malissimo Tu Ah, tu te li porti dietro Eh, vabbè Allora, ciao Ok Amico cuore Amico caro Credo che farebbe un bel botto Tu anche in teoria Perché ti posso attaccare Ah, tu sei stupido Come una merda Perfetto Dimenticavo Il tuo Tuo essere Particolarmente stupido E riviveremo E riviveremo come lazzaro Un'altra volta Non riavremo però Il bonus Nel caso in cui morissimo Perfetto Perfetto Ash non si aprirebbe comunque Sempre per quel motivo Maledetto Che quando Si ferma al cuore la run La porta di Ash Non si apre C'è altre Donzille Anche no Eh Andiamo poi Andiamo mosche Anche no Mamma mia è so fastidioso queste stanze Esplodi, si fa un favore all'umanità Perché ho fatto sta stanza? Ah beh, l'eth fatto così in piccolo è proprio il top Che preferisco? A questo punto non c'è neanche se fare tutta la stanza Vai 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 L'esplosivo lo sciogliamo Oh yes Quanto meno la devi l'abbiamo finita Non si poteva scendere peggio probabilmente Ma a noi interessava finirla Va bene ragazzi Questo è quanto Spero che il video vi sia piaciuto Se riesco a andare avanti L'ho fatta solo io praticamente Va bene Niente ragazzi Ci si sente Alla prossima Ciao a tutti